Nei giorni immediatamente successivi al disastro ferroviario Andrea Corato abbiamo creato un fondo di 10 milioni di euro per dare un aiuto meramente materiale alle famiglie colpite dalla strage sia ai familiari delle vittime che ai feriti nello scontro dei treni. Nelle prossime settimane queste somme saranno trasferite alle famiglie. Parla così Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera, autore della norma che istituisce i risarcimento alle famiglie coinvolte nella strage dei treni in Puglia. Le risorse del fondo inserito nel decreto enti locali non vanno confuse con i risarcimento, precisa Boccia, perché quelli spettano loro per legge, proprio come nel caso delle altre due tragedie di Viareggio e Milano, ma rappresentano un sostegno in più che lo Stato ha voluto dare. I primi 4,6 milioni, aggiunge il presidente della Commissione Bilancio, saranno assegnati alle famiglie delle vittime non meno di 200 mila euro a testa, verranno poi valutate le condizioni dei feriti e anche loro riceveranno un aiuto economico. L'avanzo del fondo verrà poi equamente diviso tra i parenti delle vittime. La Presidenza del Consiglio ha nominato la Commissione che valuterà la montare dei risarcimento per i feriti, mentre il Ministero Economia e Finanza ha già reso spendibili le risorse per le famiglie delle vittime che verranno versate direttamente ai sindaci, che hanno inoltrato la richiesta tramite un DPCM. I soldi dello Stato ci sono e saranno a disposizione delle famiglie delle vittime già nelle prossime settimane. I soldi dello Stato ci sono e saranno a disposizione delle famiglie delle vittime.